La ragade anale è un'ulcerazione lineare dell'ano, talvolta unica e solitaria, situata prevalentemente sulla linea mediana posteriore. Lunga pochi millimetri, la sua presenza causa dolorosi spasmi dello sfintere anale. Non vi è un'età specifica di insorgenza, ragadi e fissurazioni sono relativamente comuni nei neonati, l'età di maggiore incidenza è tuttavia quella giovanile ed adulta. La comparsa della ragade anale è solitamente dovuta alla stitichezza o alla diarrea che si prolungano nel tempo. Il sintomo caratteristico della presenza di ragade anale è il dolore. La ragade anale, torna a dire la differenza delle emorroidi, a meno che non sia una tromboclivite emorroidaria, è molto dolorosa, ma molto dolorosa. È una fissurazione dei primi due centimetri che si crea molto spesso per lo sforzo nell'andare di corpo, una ferita, e determina uno spasmo molto forte della muscolatura, quella involontaria, là c'è una muscolatura volontaria che è quella che utilizziamo, e quella involontaria che tiene intorno al muscolo come quello del cuore. E allora questa ferita determina questo spasmo molto forte dello sfintere interno, ed è lo spasmo che fa male, ma tanto male, non è la ferita, la ferita causa lo spasmo. D'altra parte però questo spasmo non è che si limita così a essere presente per soltanto un'ora o due ore, questo spasmo poi continua, anche se il paziente non ha dolore, impedisce che la ferita guarisca. Per cui la ragade determina lo spasmo, che fa male, e lo spasmo impedisce che la ragade guarisca. Ecco che qui anche bisogna fare la diagnosi, perché i rimedi e le pomate per la ragade anale sono diversi dalle pomate e dai rimedi per la malattia emoralitaria e le sue complicanze. La ragade anale, per esempio, tornando al discorso che ripeto, è importante perché è molto dolorosa, però sai, al giorno d'oggi si riesce facendo un'attenta anamnesi a guarire il 70, 60, 70% delle ragade anali con terapia medica o paramedica senza andare all'intervento. E' un percorso preciso, si adoperano delle pomate miorilassanti, molto particolari, che servono proprio a cosa? A rilasciare questo sfintere. Quindi rilasciandosi lo sfintere non solo il paziente ha meno dolore, ma anche la ragade comincia la sua fase di guarigione. Se non bastano queste pomate, hanno anche delle controindicazioni, ma vanno usate in primis sicuramente, poi ci sono dei presidi, per così dire, meccanici. Cioè, per dilatare questo sfintere, che è la causa sia del dolore e sia del fatto che la ragade non guarisce, i pazienti li fanno da solo delle autodilatazioni. Esistono dei meccanismi che servono proprio a dilatare la regione anale. Quindi, come si vede, è sempre, come devo dire, la miolisi, lo rilassamento dello sfintere anale involontario, il motivo principale per cui la ragade possa guarire. Infatti, se dopo le pomate, dopo le dilatazioni, non è guarita, la ragade va operata. E come va operata? Semplicemente con un taglio dello sfintere. Ecco perché, quindi, si capisce che cos'è che fa male per la ragade, non la ragade stessa, non è che viene tolta la ragade. La ragade viene tolta anche per motivi, se vogliamo, istologici, perché anche lì bisogna stare molto attenti, dopo se ne ne parliamo. Però, quindi, un piccolo taglio sullo sfintere, quindi è lo spasmo dello sfintere che determina sia la persistenza della ragade e sia il dolore.